Maria sedeva sola nella casa e guardava discendere la sera di quel giorno di primavera. Sulla porta qualcuno si è fermato e la chiama per nome, piena di grazia ti saluto, o benedetta fra tutte le donne. Maria guardava l'angelo di Dio in ginocchio dentro la sua casa e ne aveva grande timore, malevandosi l'angelo le dice Non avere paura, sei la prescelta dal Signore, tu sarai madre del figlio di Dio. Maria capiva quello che il Signore le chiedeva per compiere l'attesa dei profeti della sua gente. Il silenzio discende sulla casa e le trema la voce. Maria taceva mentre ricordava la promessa del libro di Isaia, le parole della speranza. Una vergine madre partorisce il Signore con noi. Ogni potenza nel Signore concepirei dallo Spirito Santo. Maria sedeva sola nella casa, sulla porta l'angelo guardava quella sera di primavera. E nell'ombra la vergine lo chiama e risponde soltanto e con l'ancella del Signore in me si compie ogni tua parola. Grazie a tutti.